Buona domenica. Oggi, 9 aprile, è la domenica delle palme. Quindi, entriamo nel tempo più santo dell'anno che ci prepara la Pasqua. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo In quel tempo Gesù comparve davanti al Governatore e il Governatore lo interrogò dicendo «Sei tu il Re dei Giudei?» Gesù rispose «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il Governatore rimase assai stupito. A ogni festa il Governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse «Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il Governatore domandò loro «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero «Barabba», chiese loro Pilato «Ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero «Sia crocifisso» ed egli disse «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte «Sia crocifisso» Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del Governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlato, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano «Salve, re dei giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo del detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna, «Costui è Gesù, il re dei giudei!». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo, «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli iscrivi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano, «Ha salvato altri e non può salvare se stesso, è il re d'Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui», ha confidato in Dio. «Lo liberi lui, ora, se gli vuol bene». Ha detto, infatti, «Sono figlio di Dio». Anche i banditi crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce, «E lì, e lì, le ma sac batani, che significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, «Costui chiama Elia», e subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano, «Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. «Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano, «Davvero costui era figlio di Dio».» Per comprendere il racconto della passione, è necessario partire da una domanda che può sembrare strana. Perché gli evangelisti hanno raccontato la passione? E soprattutto, perché l'hanno raccontata con tanta finezza di particolari? Perché gli dedicano tanto spazio nei loro Vangeli? In realtà, noi potremmo pensare che ciò che ci salva, ed è vero, è la risurrezione di Gesù, è il dono dello Spirito Santo. La passione potrebbe essere pensata come un incidente di percorso che fortunatamente non ha interrotto del tutto la missione di Gesù perché Dio lo ha risuscitato. Basterebbe dire questo o poco altro. Ma gli evangelisti sono invece coscienti che Gesù non ci ha salvato solo con la risurrezione, ma ci ha salvato con tutta la sua vita. E il suo modo di vivere, la sofferenza, la sua modalità con cui ha affrontato la prova della passione, sono fondamentali. Gesù ci ha insegnato con il suo modo di morire, come si ama, e come si ama fino alla fine. Lo ha detto Gesù. Nessuno ha un amore più grande di questi. Dare la vita per i propri amici. Per questo la passione è narrata dagli evangelisti con tanta attenzione e ognuno gli dà un taglio particolare. Matteo, per esempio, narra la passione per spiegare questo significato ai credenti. Matteo non si rivolge a un qualsiasi uomo della strada, ma ad una comunità cristiana credente che ha già lungamente riflettuto su Gesù, che vuole approfondire la sua fede. Per questo Matteo molto spesso cita le scritture e dice che ciò che accade a Gesù «Accade perché si compissero le scritture ciò che i profeti avevano detto di lui». Gesù non è una vittima ignara che va incosciente da verso la morte, ma sa benissimo cosa lo attende. I profeti lo hanno annunciato e lui riconosce in quanto accade il compiersi della volontà del Padre. Matteo poi descrive Israele come un popolo che davanti alla croce di Gesù è una massa disorientata. Sono i capi che vogliono far fuori Gesù. Il popolo li segue come un greggio senza pastore. E Gesù in questa storia sa di essere colui che compie le profezie. Per questo anche sulla croce non userà parole sue, ma citerà il Salmo che dice «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Sono queste le parole del mio lamento. In tutta la passione di Matteo ci sono vari passaggi significativi. Uno merita particolare attenzione perché per tanti versi gli è proprio. Matteo, prima di descrivere il processo davanti a Pilato ricorda l'annotazione del suicidio di Gesù e parla soprattutto del prezzo del sangue che viene pagato. È il prezzo del sangue di Gesù. C'è un'insistenza forte in questo. Matteo non vuole centrare l'attenzione su Giuda e sul fatto che ci abbia guadagnato o meno nel consegnare Gesù. Ma vuol parlare in maniera simbolica della morte di Gesù attraverso due immagini. Il giusto venduto e il pagamento per il sangue innocente. Questo perché nell'Antico Testamento ci sono due racconti almeno che possono illuminare la morte di Gesù. Uno è nella storia di Giuseppe in cui Giuseppe viene venduto dai fratelli e venduto per finire schiavo e probabilmente anche per morire ma Giuseppe salverà i fratelli che lo hanno venduto. Il secondo racconto è il racconto della morte di Abele. Anche lì si parla del sangue. Il sangue dell'innocente grida a Dio. Nel racconto di Abele grida perché il suo assassino venga punito. Nel racconto della morte di Gesù il sangue del nuovo Abele grida al Padre. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. L'Antico Testamento si è compiuto ma si è compiuto in un annuncio di speranza e misericordia che nessuno avrebbe potuto immaginare così generoso. questa è la passione di Gesù. di Gesù. Grazie.